benvenuti benvenuti in questo nuovo video teoria oggi parleremo di eustace capitano kiddo un membro della peggiore generazione facente parte ovviamente delle supernova partiremo più o meno dalla sua presentazione fino ad arrivare alla battaglia di onigashima kiddo prima di entrare nel nuovo mondo viene mostrato alle sabaudi e ci viene presentato con una taglia di 315 milioni la più alta in quel momento specifico della narrazione tra le supernova questo perché come ben sappiamo lui faceva stragi fra i civili era un pirata molto violento e doveva raggiungere a tutti i costi i suoi obiettivi come ricorderete alle sabaudi si mise in mostra insieme a rufi e allo quasi un'anticipazione rispetto a quello che oda ci sta mostrando a wano kuni a onigashima adesso no però una volta conclusa quella piccola parte di avventurale sabaudi lui non si è incontrato più con rufi appunto fino a oggi fino al wano kuni anche se kiddo ha osservato come tutte le altre supernova dalla distanza come spettatore quella che era la guerra per la supremazia naturalmente per guerra della supremazia intendiamo la guerra di marineford comunque successivamente kiddo parte per il nuovo mondo e la sua taglia si alza fino a 470 milioni sappiamo che lui si è scontrato con la sciurma di shenks il rosso e uno dei sottoposti dell'imperatore ha tolto il braccio sinistro a kid facetelo somigliare al suo capitano scherzosamente inoltre sappiamo anche che ha combattuto e ferito un dolce comandante per poi scappare via noi sappiamo no cracker dice che la marina conosce solo il suo manifesto la sua vera faccia non la conosce quasi nessuno katakuri era praticamente imbattibile quindi secondo noi potrebbe essere che ha ferito smuti staremo a vedere più avanti se ci verrà svelato sappiamo che dopo tali avvenimenti lui forma un'alleanza con hawkins e con apu anche se questa alleanza era tutto un inganno perché in realtà apu le fece cadere in trappola e le fece catturare da kaido naturalmente l'alleanza era per abbattere shenks il rosso ma sappiamo bene poi cosa è successo no che hawkins si è sottomesso a kaido apu ne faceva già parte dei pirati da cento bestie e kid purtroppo è stato sconfitto ricordiamoci bene che il suo sogno è il medesimo di rufi cioè diventare il re dei pirati e già lì dimostra una grande volontà e una grande ambizione andiamo a vedere adesso le possibili fonti di ispirazioni per il suo personaggio innanzitutto dal punto di vista dei poteri il parallelismo più ovvio è sicuramente con magneto degli x-men un mutante capace di controllare e creare i campi magnetici è grazie ad essi di manipolare i metalli mentre dal punto di vista del design potrebbe esserci un parallelismo con vache de stampede di trygan un personaggio estremamente potente dotato di un braccio quello sinistro meccanico a causa di un incidente il corpo segnato da profonde ferite e cicatrici e di capelli con un taglio a spazzola verso l'alto che gli hanno affibbiato il dominio di testa a punta proprio come kid detto ciò adesso andiamo ad analizzare i suoi poteri e i suoi archi innanzitutto sappiamo bene che è un utilizzatore del re conquistatore come rufi possedendo questo potere ovviamente dobbiamo metterlo per forza di cose in una posizione di primo ordine nella sua generazione inoltre questo potere potrebbe portare a degli sviluppi futuri se lui riuscisse a migliorarlo nel suo utilizzo come sapete bene la chi del re come può essere utilizzato abbiamo visto rufi kaido bigmo newgate roger e non solo inoltre a udon ha dimostrato di avere una forza fisica incredibile alla stregua di mugiwara no rufi infatti nonostante avesse le manette di agalmatolite anche se a concentrazione più bassa riusciva da sollevare dei massi enormi dei cubi come tra far gallo anche kid ha un frutto del diavolo molto pericoloso se ben utilizzato esso è un frutto del diavolo di tipo paramicia il suo nome è giki giki e gli consente di manipolare il metallo usando il magnetismo questa info c'è pervenuta dalla sbs devolue 99 di one piece comunque i poteri sprigionati da kid sono veramente degni di nota basti pensare che attraverso queste forze magnetiche che sono estremamente forti kid è riuscito ad avvolgere un braccio metallico attorno a quello di bigmo e respingendo tale braccio è riuscito a favolare via l'imperatrice la capacità del suo potere è molto ampia sono infatti molto diversificate inizialmente lo vediamo assemblare un braccio enorme abbiamo visto lanciare metalli verso gli avversari dopo utilizzare anche questo metallo per difendersi ma addirittura a wano kuni e più precisamente a onigashima abbiamo visto creare un vero e proprio robot golem attorno al suo corpo con cui si apprestava a combattere il punk rotter i punti deboli di questo frutto però sono quelli di necessitare di materiali metallici nelle circostanze vicine naturalmente un altro punto debole potrebbe essere l'achi dell'avversario perché se è molto alto molto elevato molto sviluppato potrebbe limitare gli effetti del frutto un po come ci spiega tra far gallo per le sue room comunque abbiamo visto vari attacchi di kid che elenchiamo velocemente il repel il punk rotter il punk vice lo slam gibson il punk gibson e il punk pistol diversi attacchi visti contro apu contro big ma eccetera 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 adesso andiamo ad illazionare cosa potrebbe fare nel futuro con il suo potere volendo trovare appunto delle similitudini con magneto come vi dicevamo poco anzi personaggio pubblicato alla marvel comics no potremmo fare alcune ipotesi molto interessanti innanzitutto il suo potere principale potrebbe consistere nel manipolare i campi elettromagnetici quindi i metalli potrebbe anche manipolare contemporaneamente più metalli sconosciuti e potrebbe farle evitare senza sforzo addirittura dei sottomarini nucleari di tonnellate e tonnellate le sue abilità si estendono fino al livello atomico degli atomi cosa che gli permetterebbe di manipolare anche le strutture chimiche e di riorganizzare la materia magneto può manipolare gran parte dei singoli oggetti contemporaneamente con i suoi poteri e li può assemblare in modo diversificato può inoltre generare degli impulsi elettromagnetici di grande forza e manipolare anche la stessa energia elettromagnetica fino ai fotoni capendo che questo è un piccolo riassunto dei poteri di magneto se kid riuscisse a fare cose simili a queste elencate adesso da magneto diventerebbe veramente un personaggio fuori dal mondo naturalmente potrebbe anche essere collegato ad un eventuale risveglio del frutto come ricorderete noi facciamo un video su trafarga di waterloo collegandolo e spiegando come lui potrebbe essere una delle chiavi vincenti per la disfatta di big man e adesso che lo e kid stanno combattendo a braccetto proprio contro l'imperatrice possiamo pensare che i due potrebbero raggiungere tale obiettivo magari con qualche altro aiuto perché no staremo a vedere anche se lo scontro è ancora molto incerto comunque sia o da sta gestendo le supernova dandogli all'oglino di loro ruoli più o meno rilevanti a seconda dei casi ma secondo noi due in particolari cioè lo e kid sembrano avere un qualcosa in più per emergere se siete arrivati fino a qui hashtag eustace capitan kid mi raccomando tutto attaccato ora fateci sapere voi cosa ne pensate che ruolo avrà nel futuro e lasciateci un commento anche da sfogliatore e poi pensate molto bene che kid è un personaggio molto determinato quindi pur rimanere così dietro rispetto a rufi certamente no sia lui che lo dovranno per forza di cose impegnarsi per mantenere il passo di mugiwar non rufi un saluto a tutti e anche oggi abbiamo detto solo la verità come sempre mi raccomando mi raccomando ricordatevi delle nostre due pagine facebook il gruppo facebook instagram telegram se siete abbonati con la sub avete anche un gruppo speciale e poi siamo anche sulla piattaforma violacea se vi va vi aspettiamo